Sarà convocato lunedì prossimo il Consiglio Comunale a Giarre in cui sarà riproposto il regolamento sulle strisce blu. La maggioranza dunque a partire da stamane ha sette giorni di tempo per mettere a punto una strategia tale da portare a casa il regolamento venendo incontro alle esigenze della ConfCommercio di tutta la società civile giarrese che su questo tema chiede un segnale in attesa che l'amministrazione possa rivedere il piano economico finanziario e lo stesso contratto di progetto di finanza con la Giarre Parcheggi. Roberto Bonaccorsi però vuole anche vincere il braccio di ferro con parte dell'opposizione e per questo dovrà intestarsi nei prossimi giorni questa questione già a partire dalle prossime ore. Oggi però il primo cittadino in realtà è impegnato su un altro fronte con la riunione di giunta che dovrà esitare e dovrebbe farlo nel primo pomeriggio l'attesa delibera sulle aree fabbricabili.